hola io sono marcus crano e signore e signori bentornati in fallout 4 allora dobbiamo tornare a fare appunto rapporto un sopravvissuto il paladino brandis siamo bellissimi è ancora vivo? si è instabile ma dai si vede la barba attraverso il coso vuoi glielo nastri? se torneremo sani e salvi farò in modo che i nastri siano consegnati ai parenti più stretti dai eh vuoi le loro medaglie se sopravvivremo la confraternita onorerà il loro sacrificio va bene la loro memoria hanno affrontato la missione con coraggio battendosi contro un nemico sovertiente hanno vissuto e sono morti insieme bla bla questo significa essere un membro della confraternita d'acciaio devi stare molto calmo eh è tutto è tutto d'accordo preparerò un rapporto completo in base alle tue indagini se torneremo tutti interi farò in modo che la confraternita onori la loro memoria dai guardate le circostanze non posso offrirti molto come ricompensa ci abbiamo fatto un buscio di quello come una capanna non era una missione facile hai guadagnato il mio rispetto iniziato ben fatto ma stiamo scherzando stiamo scherzando come si toglie sta cazzo di torcia uh sono giunto fino a qui e ne devo scegliere quattro ma io voglio coso voglio sborseggiare a livello successivo com'è che si scendeva eeeh non lo so ah col mouse forse no così ah raga aiuto help ogni volta possibile che ogni volta debba succedere questo marcus cron io voglio semplicemente oh spegnere la torcia cazzo ok allora tutto a livello 12 ma è ma ma maraviglioso maraviglioso e bellissimo ok d'accordo allora mi sono spogliato di tutti i miei veri la scorsa puntata quindi direi di andare a fare eeeh le altre due missioncine per i due stronzi una era tipo rompere il culo la gente se non sbaglio andiamo a vedere i dati e purare il commonwealth eccolo qua e dov'è dov'è che tu mi vuoi mandando pronto li vuoi mandando qui ok mentre quell'altra problema con i pedroni i predoni è vero c'erano anche i preproni che è proprio e di qua ci sta un'altra questincina dove mi stai portando mi porti qui qui c'è arc jet system qui impianto di asso e braggio corvega io direi che andiamo qua e poi andiamo di là il laser gatling Che non abbiamo Ma è necessario attendere l'istante prima che possa aprire il fuoco Certo che mi aspettavo un po' di più Di 200 tappi considerando che mi sono fatto Un bucio di golosia e ho sprecato Un botto di roba Mi servirà per più che altro qualcuno Che mi dia Radaway e Uh Eh Geiger Va bene Geiger Andiamo di qua Ma non era Geiser No il Geiser è quello che Siamo nella merda signore Sta piovicicando merda signore Ok Non manca molto era vicino era vicino Richiami punti azione Andiamo Eh centocetta No di qua si Hoppela Ah io ogni volta che mi fai A radda da Questa qui qual era? Trova Oh merda Un gorso Oh Oh No 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 Cosword Cosword aiuto Cosword Merda Merda Scusate che con sta pistolina Gli faccio un cazzo però Vestiario Armi Allora c'ho la pistola che fa 21 Prendiamo il bolt action Artigianale Dove stai? Ma che è singolo Però fa 40 Oh merda Merda Testa Sparagli Spara Sparagli 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 Ma non c'aveva una cosa Con cui sparare Corto automatico Artigianale fucile Corto artigianale Esplosivo Eh Bolt action Niente male Se no c'ho doveva La mitragliatrice Che però c'ho pochissimi colpi Vabbè Prendiamoci questo Rimaniamo su questo Ok abbiamo scoperto qui Vediamo un po' qua che c'è Aia di nuovo Radiazioni Siamo attenti Agli stronzi Uh L'abbiamo trovata Uh quante cose Che che cosa Però forse me le dovrei andare da qua Perché davvero qui fa C'è una merda troce Ma è tipo una città fantasma Nella nebbia Ma te devi fare i cazzi tua Perché c'è nel senso qui C'è stanno i parchi giochi Poi mi fa venire in mente Mi fio Qui ti sei morto Cosa sta accadendo Uh salve Salve Come sta Em Em Ragazzi Ragazzi Via 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 Dove sta? Dove è finito? Cosworth Aiuto! Cosworth Vado alla prateria Basta Uh F5 Ce lo dimentichiamo sempre Eccolo la Cioè lo prenderò da qui Oh merda 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 No 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 Ma preso ma preso stop e morì Allora ma perché muoio sempre Questo gioco Non faccio altro che morire Steampack grazie E poi armi a questo punto Autorità virtuosa Olè Vaffanculo Perché è meno uno radiazione Che è sto posto fighissimo Heila Salve Posso bucà Speriamo che non ci siano stronzi Buongiorno Ah Bene Che cazzo è esploso Oh merda Ma vaffanculo Il topo d'arpa qua Ma esplodi nel fuoco Ma esplodi Esplodi Ah Vieni No rega perché non so sparare Grazie Cosworth Senza I bersagli piccoli proprio sono una pippa De quelli incredibili Intanto mi stanno chiamando Ma in questo momento sto registrando Non potete chiamarvi Sto registrando E signori miei Io direi che abbiamo compiuto il nostro Adimpiuto al nostro Cicciopuzzo L'unica cosa è che Se non sbaglio Io ho Alù E a canna Se ti rispondo dopo 50 squilli Vorrei di che te voglio parlare in questo momento Ho l'acqua purificata Buono 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 Allora Questo posto è interessante Ma non c'è Non mi sembra che ci siano cose Però non sono entrato qui effettivamente Tappo Vesti l'ovore Gnammi 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 Perché è pelata Qui non c'è Niente Vediamo se c'è per caso Qualche cosa di interessante Alvolissimo Medicine Un letto Potevo dormire qui Vedi Eh interessante Ok Torniamo via Dati Mappa 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 Andiamo qui A Lexington Dove ci dovremmo trovare Qualche Qualche nemico Però dovremmo aspettarcelo Credo Ce l'aspetteremo Piccola Affidabile Maneggevole Poco potente Ragionevolmente potente E molto diffusa Dalla caduta delle bombe La pistola 10.000 Vedrei Ha partecipato A innumerisibili scontri Nella zona contaminata Bella però Questa Io ho la versione Quella da coglioni Vuoi cambiare la sconciatura Fai visita A un barbiare In un grosso insediamento Maio Dove Quando Perché Questo posto Mi ricorda qualcosa Aspetta Mi sa che ho sbagliato Fermi 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 Ok Questa me la tolgo E purare il Commonwealth Vediamo un po' No regà E' lì E purare il Commonwealth E' qua Oh mio dio Mi sa che questo è il posto Dove Mi ruppero il culo Per tre punti Per tre volte Io A una certa Lassi Lasciai perdere Lassi Ma come parlo Lassi perdere Posso passare Per di qua Si Fantastico Ok Stiamo Stiamo bene Attenti Manca poco Ah Deve entrare Dentro al supermercato Che cazzo Era quello No regà Che c'è lì Io so curiosissimo Ce l'ho qualche cosa Che zoom Mirino Lumiloso Vaffanculo Quello è Mirino Lumiloso Ma per favore Vabbè Ripendiamo Autorità A battere Appena S S S S Ed Eccoci qua Del super Dump Mart Dobbiamo entrare Bene Dolferali Dolferali Secondo me Sono golferali Vediamo se sono golferali Bello c'è quello Uh merda Regà Questo si muove Questo c'è Sto a finitutto Regà Questo si muove Questi si muovono Secondo me No Sono morti Sono morti Qui c'è Un cestino Ci servirebbe Il pannello Di controllo Oh cibo Muffido Buono Forse è qui dentro Merda Ma sono tutti morti Uh eccolo Uh ok Alla Bene Uh Al primo tentativo Comandi del protector Uh Attiva unità Ok Solo dai Seleziona Seleziona modalità Personalità E gli facciamo Soccorritore Tutore della legge Ok Torriamo indietro E poi ho letto Cassaforte Eh Sblocca Serratura L'hai fatto? Pronto? Oppela Ragazzi Come è stato Che la cassaforte è bloccata Aspetta 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 Ah no Sbloccata Ti prego Non farmi del male Sì Non ce l'hai con me Vero? Non ce l'hai con me Vero? Ok Con chi ce l'hai? Un bruscolai Non un occhio Non sacco chi ce l'hai Quindi io avanzo Inculando Ah raga ma qui ci stanno I golferali morti Dov'è Ciccio? Ciccio Attenzione Interferire con le attività No 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 tranquillo Tranquillo Dai Carmo Golferali Razziatore morto Oh 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 Aspetta un attimo Vedete come si comporta Sto coso Uh Li ha sbragati Allora io li faccio Tutti alza Eccoli qui Alzatevi 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 Adesso dovrebbero arrivare Tu che c'hai? Munizioni Haha Non prendo putt'esperienza Però cazzo Goal Goalini Vediamo cosa si comporta Ma Perché i gol Non mi attaccano? Sì però certo che Sei proprio lento Quanto la morte Vabbè Vabbè Cosword Devi staccarlo Va bene Perché hai dato fuoco al cestino Cosword Perché? Uh Grazie Questo non è un cadavere È qualcosa che ci assomiglia Proteggere e servire Doveva trovare la cassaforte eh? Se solo avessi una forcina Ma come? No L'ho lasciata giù No L'ho lasciata a casa Per sbaglio Sì Devi stare molto calmo Posa cenere Oh Ma che schifo Che cos'era quello? Fermi 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 Ho trovato qualcosa di buono Vesti Logore C'aveva tipo un Torace in cuoio Aumenta la resistenza ai danni All'energia Quando è più bassa La tua salute Fino a più Porca cazzozza Io la voglio Ok I goal Sembrano essere finiti Qui lui ha fatto Piazza pulita Regamo Ditemi che sto stronzo Perché non prendo I punti esperienza Però almeno è Andiamo un po' A vedere che c'è Di qua Io ho lasciato le forcine Che Stronzo Sono davvero uno stronzo Uh Zucca di plastica Ma perché? Stappo Uh 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 Mamma mia che paura Mamma mia che paura Non ci avevo mica pensato Un vaso di ceramica Rotondo vuoto Bello Una carota Una carota Macchina per l'espresso Macchina per l'espresso Che sta succedendo Che sta succedendo Macchina Uh Munizioni Un'altra carota Un'altra carota Orsacchiotti Gommosi Paura raga Chiudiamo la porta Vedete dove sta la cassaforte Per favore Per favore Voglio la cassaforte E beh Era qui Era questo il problema Oh Era un more Uh Ce l'ho fatta Fantastico Era tutto qua Bisognava uccidere Il capo dei gaul E c'è Stai una puzza Perché hai dato fuoco A tutto il mondo Ciccio Però io So convinto Che qui ci sia Una cassaforte Quindi voglio Vedere un po' Paule da viaggio C'è la diffusione Grazie Piccolina Però la prendiamo Regà Do sta Uh Salve 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 Olè Attenzione Signore Credo che qualcosa Ci segua Eh beh Forse È quello Che è morto Io di qua Sono passato Forse questa Nope Ah eccolo Bimbo Gigi Vediamo un po' Una spazzola Grazie Apri Ho finito le forcine No dai Sto rusticando Sto rusticando tantissimo Qui già ce l'ha passato Ragazzotti Direi che questa puntata Termina qua Anche perché Porca zozza ladra Non ho già portato Le forcine maledette Sarà per un'altra volta Che cosa sono queste Bottiglie Quelle prendo Bella Un 절대 Rim derniere Me Sì Es